Dopo quattro giorni cosa è successo? Quando quattro giorni allora ci hanno dato il resto del nostro vestiario, ci hanno dato dei zoccoloti, tanti zoccoloti olandesi, tanti zoccoloti di zoccoli incerati ma con sotto anche il legno così, erano meglio di quelli olandesi perché quelli olandesi erano terribili, ti spaccavano anche i piedi. Ci hanno dato un paio di calze, ci hanno dato i vestiti a righe con ognuno il nostro numero di matricola perché loro avevano stabilito il nostro numero di matricola, ci hanno dato il nostro numero lì, quando ci hanno dato i vestiti ognuno ci chiamavano e c'era il suo numero di matricola. Cosa vuol dire il numero di matricola? Il numero di matricola vuol dire che noi non avevamo più il nostro nome dopo, il nostro nome era diventato il numero. Quindi quando ti dovevano chiamare non ti chiamavano più Angelo? No, mi chiamavano per noi non funziona, noi non funziona, io ero il 59.141 e mio fratello ero il 59.142 perché loro penso che li hanno fatti numerati in ordine alfabetico perché i numeri sono partiti dal 58.000 e tanto e sono finiti al 59.000 verso 300. e questo numero è sempre stato il nostro numero e questo numero è sempre stato il nostro nome. Allora, il numero l'avevi? L'avevamo qui sulla sinistra e sulla giaco, qui sulla destra sui calzoni e ci hanno dato un braccialetto con un po' di corda, un braccialetto in lamiero con su anche il numero. Cosa vuol dire Angelo? Chiamarsi con un numero? Ah, chiamarsi con un numero vuol dire tante cose, ma per me che l'ho vissuta vuol dire una cosa molto semplice perché noi dobbiamo pensare che tutto quello che hanno fatto le SS non è che l'abbiano fatto così a caso, l'hanno fatto perché è stato tutto studiato a tavolino. La spersonalizzazione delle persone, questo, loro ti hanno dato un numero, la spersonalizzazione delle persone, quando te ti hanno levato, dopo di averti lavato tutto ti levano anche il nome. Poi per conto mio, io l'ho visto in questo modo, per facilitare anche il lavoro degli aguzzini, perché se noi lasciamo le persone un nome, pensate che dietro un nome c'è sempre qualche cosa di umano, perché dietro un nome, tante volte questo nome può ricordare qualche cosa anche all'aguzzino, magari il nome di un figlio o di un parente o qualche cosa può avere degli attimi di debolezza, tante volte può avere sul nome della simpatia o qualche cosa, e invece dietro un numero di umano, dietro un numero non c'è niente, un numero è un numero e basta, il numero si dice senza nessuna emozione, invece un nome c'è sempre una cosa, una storia dietro un nome, ecco, perché loro quello che hanno fatto l'hanno fatto così, poi l'abbiamo sperimentato in seguito, cosa voleva dire queste cose, perché quando le abbiamo provate a Gusen, cosa voleva dire essere chiamati sempre per numero così, Ecco, Angelo, a proposito di numero, tu prima l'hai detto in tedesco e in italiano, e chi non capiva? Molte, e anche venivano massacrati anche, perché, tenei capire che io, quando all'esterno delle baracche, questo è successo a Gusen, dopo una giornata di massacrante lavoro, perché voi dovete capire che tutti questi capò che abbiamo trovato in questi campi, loro avevano il diritto di vita e di morte su di noi, loro si divertivano alle nostre spalle, ognuno di questi capò, quelli che avevamo sul lavoro, ci massacravano così, quelli che avevano in baracca non erano quei capò che avevamo sul lavoro, e allora anche loro dovevano divertirsi alle nostre spalle, loro tutte le sere all'esterno di queste baracche, noi il nostro lavoro finiva alle 6, si entrava in campo, poi c'era il primo appello, poi il secondo appello lì all'esterno delle baracche, prima l'appello generale sul piazzale del campo dove ci contava la SS, e lì dovevano esserci tutti, poi ognuno andava alle proprie baracche, e lì c'erano altri appelli, noi venivamo tutti allineati all'esterno di ognuno delle proprie baracche, e lì questi capò che avevamo delle baracche si divertivano anche loro alle nostre spalle, loro incominciavano tutte queste storie, abbiamo parlato del numero, loro si mettevano là tutti bene allineati all'esterno delle baracche, perché noi eravamo lì tutti allineati tra una strada che divideva una baracca e l'altra, loro si mettevano sui gradini delle baracche così ci vedevano più bene, e ci chiamavano per nome, e ci chiamavano per nome detto in tedesco, Per numero? Sì, per numero, adesso sbagliavo, ci chiamavano per numero detto in tedesco, e allora il mio numero, Io però i numeri in tedesco bene e male li conoscevo prima, perché da ragazzo dove abitavo io c'era una contraera, che c'erano i soldati tedeschi, e qualche cosa avevamo imparato, io l'avevo quasi capito il mio numero, però non mi sono mosso, loro sono venuti a prendermi e mi hanno dato un sacco di botte, però la seconda volta che hanno chiamato il mio numero ero pronto, perché quando ti chiamavano il numero dovevi fare un passo avanti, levarsi il berettino, mettersi sull'attenti, e stare lì sull'attenti, e se non ti muovevi venivano loro a prenderti, e ti davano delle grandi botte, loro picchiavano, c'erano quelli che picchiavano coi bastoni, quelli che picchiavano coi pugni a seconda, ecco, in quelle occasioni lì, era brutto se uno cadeva per terra, perché allora si prendeva di quei calci sullo stomaco, sulla schiena, che tanti ci lasciavano anche la pelle, diciamo, lì era molto brutto quando cadevi per terra, ma tante volte ti davano quei pugni che ti facevano tramurtire, Angelo, oltre al numero, ti hanno dato un'altra cosa, avere un'altra cosa sulla zebrata? IT è la sigla, il triangolo rosso, IT che voleva dire italiano, i francesi invece avevano la F lunga, i russi la R, i jugoslavi la I lunga, gli ebrei avevano la stella di Davide, diciamo, poi avevano loro lì, ci mettevano anche agli ebrei, lì a Husene, ci mettevano anche delle strisce di vernice, anche sulla schiena, oltre al numero, li distinguevano così. Ecco, perché il triangolo? C'erano triangoli di altri colori oltre la rossa? Sì, il triangolo rosso era quello dei politici, poi c'erano il triangolo verde, quelli che avevano messi in prigione per reati comuni, poi c'erano gli omosessuali, avevano il triangolo rosa, mi pare, poi c'erano altri triangoli, adesso comunque ogni categoria, loro li dividevano per queste categorie, e tu avevi il triangolo rosso, quindi quello dei politici, sì, il triangolo rosso dei politici, ascolta, allora i capoi erano tutti tedeschi? No, ce n'erano tanti polachi. Quindi quando vi chiamavano, vi potevano chiamare anche in polacco? Di solito erano un tedesco o un polacco. Ma chi capiva di voi il polacco? Ce n'erano pochi, anch'io quando si chiamavano in polacco, ne ho preso un po' di più di botte, ma poi l'ho capito anche in polacco, perché Pindescu undievi, Stotterdiefi undievi, c'è ancora il mio numero, detto in polacco. Però per me, che ero giovane, queste cose si imparano più bene quando si è giovane, invece le persone che avevano una certa età queste cose non le imparavano mai e prendevano sempre delle grandi botte, ecco. E loro quando ti picchiavano ti insultavano anche, italiano scheiser, italiano di merda, Fanflüter che sei un cretino, scemo, scurveseno, figlio di puttana, diciamo, tutte parolacce che quando ti picchiavano te le dicevano. C'erano anche molti anziani con voi? Io ero giovane quando vedevo anche uno di trent'anni era anziano, però anche sui quarant'anni, cinquant'anni, così ce n'erano, forse anche di più, però quelli resistevano poco, ecco. Ti ricordi se c'erano anche dei sacerdoti? Sì, ce n'erano i sacerdoti, io ne ho conosciuto anch'io, ho conosciuto Don Narciso Sordi, ho conosciuto anche Don Nigeri quando è passato da Gusen, poi sono andati a Dachau, poi c'era Don Gaggero, ce n'erano tanti. Questi li hai conosciuti perché erano nella tua baracca? No, nel campo, la sera, magari si andava da una baracca all'altra, così, io nella baracca non ho mai avuto sacerdoti assieme, io, nelle baracche così, perché poi dopo i sacerdoti in un bel momento li hai mandati tutti a Dachau, là li hai messi tutti nella baracca dei sacerdoti, però i sacerdoti che c'erano a Gusen, a Matalosa si trovavano nelle baracche dove mari erano baracche e nei posti dove mandavano questi che andavano a lavorare in certi posti, diciamo. E avevano anche loro il numero, il triangolo, come voi? Come noi, senz'altro. Di donna ha acceso solo, cosa ti ricordi? Sì, mi ricordo quella volta che quando ho visto quei ragazzi che è arrivato a un convoglio di ebrei ungheresi, ecco, io che ero così giovane, così, però quando ho visto, perché quel convoglio lì è entrato proprio nella ferrovia dentro a Gusen, li ha fatti scendere dal treno lì a Gusen, e poi c'erano anche delle donne, c'erano bambini, c'erano questi uomini così che li facevano camminare con le mani in alto. Quando ho visto quei bambini così piccoli che camminavano con le mani in alto io ci ho detto Galbani, diciamo, quello di Lecco, ci ho detto a Pinu Pinu, perché noi tante volte alla sera si diceva qualche preghiero così per a Pinu Pinu, se succede per permettere queste cose ho paura che Dio non esiste. Questo dietro di me che era un prigioniero anche lui vestito a righe come me mi dice perché dice così? Non è colpa di Dio, è colpa degli uomini.